Oggi il tuo respiro è così affannato che ti si strozza in gola. Oggi non respiri bene e hai le vertigini, eppure non sei in bilico nel vuoto. Ma quella morsa in mezzo al petto non ti lascia andare, e l'ossigeno non arriva bene nei polmoni. Dovresti risparmiare qualche battito al tuo cuore. Siete pronti? Si parte. Se non sai quello che vuoi, se non sai chi è il tuo nemico, non sai cosa combattere. Questo è un gioco. Tutti seguono e vengono inseguiti, da sempre. Quando ti svegli con questo affanno, è meglio sapere subito chi è il nemico. Mica è più buono. Smog 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 Petrolio. Luce. Ombra. Deforestazione. Deforestazione. Morte. Vita. Madre. Madre. Noi siamo il futuro. Noi vogliamo il futuro. Non lasciare che sia il passato a decidere come sarà il tuo futuro. Ora tocca a te. Ora hai capito da che parte stare. Noi. Non ciò. Urla. Non ciò. Qui 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info